io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere libro di neemia capitolo 6 verso 3 prendi le giuste decisioni neemia era impegnato insieme alla sua gente nella ricostruzione delle mura di gerusalemme quando gli venne riferito un invito molto sospetto samala tegeshe con l'intento di volergli fare del male gli mandarono a dire vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di ono neemia comprese che si trattava di una trappola così inviò loro dei messaggeri e rispose io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi bene in soli 52 giorni le mura furono ricostruite e quindi terminate tutte le nazioni circostanti prese da timore riconobbero che l'opera si era compiuta con l'aiuto di dio la storia di neemia dunque ci insegna a fortificarci nel signore con saggezza con fedeltà e con integrità immagina anche tu quali cose incredibili dio può fare attraverso di te il consiglio è affida al signore le tue opere e vedrai la sua gloria manifestarsi certamente nella tua vita